Per testare la pala olica a banco mi sto creando un supporto che sia a basso ma abbastanza stabile per poter fare le prove. Ho saldato due barri qui sopra, ovviamente facendo la prova con la flangia che tutto sia perfetto. Adesso continuo a saldare e poi dividiamo, gli diamo giusto una pittatina, tanto questo è un supporto di prova per testare a banco la pala olica prima di montarla sul traliccio definitivo che ancora devo capire bene dall'analisi di venti dove è installato. La prima potrebbe essere questa, si parte dalla prima tenendo questi qua morbidi quindi senza serrarli e man mano si va verso l'ultima lama. Se ci metto ovviamente la rondella, la grover, il lato bloccante che danno semenzino al kit. E adesso andiamo avanti con l'installazione. Il foro di riferimento del primo braccio da fissare in alto. Questi sono i bracci che ovviamente si deve allentare il bulloncino che gli stringe e vanno infilati nell'asse e poi vanno stese a secondo di come è l'elica come è spiegato qui nelle istruzioni. E' collegato proprio il volante, solo due poli, giusto dovrebbe dire se produciamo il terzio. Vedi, ci vedi, ci vedi. E sta girando veramente. Adesso sta girando dritto, prima girava alla rovescia. Ecco vedi, quindi questa è la simulazione di un vento molto basso. Questa la reggine dovrebbe fare 40-50 oz. 48 oz. Ma questa dovrebbe dire. 50 oz. Calcolando che adesso ho quel grande volto muore. Ehi, ma sta girando. La sento io al vento? Sì, ora sta girando con il vento e sta a fare 13 oz. Quasi costante, vedi? Ma questa di sera secondo me un po' di aiuto sempre lo dà. Va bene, l'abbiamo montata, funziona, abbiamo visto. Salute a tutti. Eh sì, ora sto girando con il poco copiato di vento che ci sta. Mandala, mandala, mandala qui. Adesso sta riprendendo un po' d'aria e come vedete sta iniziando a girare e gira da sola. Eccolo qua. Vedete? Ecco qua. Visto che l'amico Frizz non credeva nelle parole di Beniamino abbiamo messo la pala all'ingresso dove ci sta un poco di corrente ed ecco qui che la pala sta girando da sola. Come potete vedere adesso non c'è più vento perché ogni tanto arriva a raffica. Adesso non sta girando, adesso fermo. Savio, grazie a Lino Beniamino ho semifidito di montare la pala all'ingresso. Grazie a Beniamino ha montato la pala all'ingresso. Adesso la prova più importante è questa qui. Vedete Savio che con il fiato la fa girare. soffia. Vedete? Vedete? Guardate. Eolo. Ecco qui. Eolo. Ma però abbastanza l'inerzia abbastanza. No, in ogni modo. No, va bene. La bella inerzia. Un saluto da Savio e poi la finiremo di montare meglio. Però è stato un posto da montare. Ringraziamo l'amico Beniamino. Però sembra che funziona bene. Funziona bene. Mi ha dato giusto la piccola spintarella e ha un bomba di centro. Non sembra avere problemi. Un saluto da Savio Tecnic e dall'amico Beniamino. Alla prossima. Alla prossima.